Vicina la soluzione del Rebus Pantera in Irpinia, le ultime orme trovate in un terreno di summonte di proprietà di un noto professionista sono compatibili con quelle di un grosso felino. E' un'ulteriore conferma di quanto già appurato nei giorni scorsi, dopo una comparazione con l'esemplare di Pantera ospitata nello Zoo di Napoli. Ieri ha iniziato il proprio lavoro la Task Force, composta da Università Federico II e Istituto Zooprofilattico di Portici. Il professor Orlando Pacello, docente di anatomia patologica veterinaria dell'Ateneo Federiciano, ha eseguito nuovi rilievi insieme al medico veterinario Nicola D'Alessio. Abbiamo fatto le comparazioni con delle orme che abbiamo in collaborazione con lo Zoo di Napoli, abbiamo rilevato anche della Pantera che lo Zoo stesso ha in detenzione. Quindi la conformazione e su quella comparazione e sulle orme soprattutto riferite nell'episodio che vi ho riferito prima abbiamo avuto una compatibilità. Naturalmente serviranno altri esami di laboratorio per avere un quadro più preciso e si spera definitivo ancora pochi giorni per rispondere a un interrogativo che tiene con il fiato sospeso le comunità del Parco del Partenio. Se le impronte che ha lasciato l'animale sono ben definite magari riusciamo già ad avere un'indicazione abbastanza attendibile. E poi ci sono gli esami di laboratorio come per esempio i test di genetica forense, in quel caso ovviamente ci sono i tempi tecnici della processazione di un campione che richiede dai 3 ai 5 giorni.